Ciao a tutti ragazzi dal team Daz, io sono DazSniper e oggi qui con me commenta DazNemesis DazRage Ok Perfetto Oggi come abbiamo cercato di fare nell'altro episodio ma da avuta la grandissima lag causata Causata dalla mia Playstation Perché mi ero dimenticato di spegnere la Playstation Quindi lagavo il server Ora oggi andremo alla ricerca del mob spawner che stavo cercando da molto tempo Quindi se per favore mi seguite Se no vi perdete ogni 5 secondi mi dite dove siamo No ma non è questo il problema che io ho un peccone di coso come ti chiamo Oh fregate, tieni il mio, tieni il mio di pietra, tieni il mio di pietra Tanto quello di pietra io DazSniper e Pippetto DazSniper e Pippetto Ma in ogni video ci devono essere dei creeper E che cazzo Ti amano Quindi lo spawner era proprio qua Allora ecco Aspetta che c'è del ferro qua E la salute non nuota E comunque c'è anche la Zapaita Che non gioca a Minecraft Perché ha problemi anche lui di lag Zombie Ragazzi se volete i mob spawner è qua Arrivo Destruction total Ok scherzavo Sì il fungo rosso Figo C'è un creeper E c'è un mob spawner Ciao creeper Non me Non me Aiuto, 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 aiuto Dove sei, Daz? No Mob spawner di ragni No, che schifo Paura, 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 paura Li odio i mob spawner di ragni Non servono a niente Volevo quelli di scheletri Ah, comunque qua c'ero già arrivato io Io sto Eh, ragazzi, comunque C'è Lo spawn Lo spawn è funzionante per essere Scusa Non c'è niente, in pratica Vabbè, io prendo la pietra verde e la mettiamo dentro casa, in casa D'annazzo D'annazzo C'è stato che non si potevano fare tipo il piccone di questa pietra qua, era a premio Sì, piccone verde Sì, è vero, tu vedi la piccone tutto verde, mezzo verde, mezzo verde, mezzo... Poi, prendiamo la cetta Cetta, ma... Farò la donazione Pieni pietra verde, barbone, viai qua Io continuo Dove vai, no, no Che? Oh mio Dio Se lo scappa via la pietra verde Oh mio Dio Vai più Creeper No, ok, prenditelo, è tu Tutto, tu Ok, ho ripreso tutto Cioè, tutte le cose... Oh, il ferro, il mio ferro Eh, veramente doveva essere il mio Però io l'ho donato a Desert Age che è più bisognoso Vedi, adesso non ho nulla Non importa Vabbè dai, tanti Oh, Creeper, 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 Creeper È morta di nuovo No, non è possibile, ragazzi C'è stata una botta di ragazze Ma spesso che gli butti ste cose che non mi servono Oh, Daniele, facciamo le cose che non mi servono Ok Ok Oro, Creeper Il nuovo è morto E muoio di nuovo Ragazzi, io l'ho sempre detto Ragazzi, ma io non li vedi Creeper, com'è? E questo sarebbe stato un gameplay lolleggiante E infatti lo è Aspetta che prendo l'oro Scusa, Rage Rage, è meglio se Rage, Quitty Dammi il mio oro Grazie, l'oro Dammi il mio oro Ma vabbè che ci dividiamo le cose dopo K, K, K Creeper Creeper, 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 Creeper Creeper Lava, 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 stira Lava come lava Ok Non mi dire che mostro di nuovo Rage, pipetta No No Meno male Però io l'ho un power C'è Redstone Mi sa che troviamo dei diamanti per questo Sì, è in Blasley Però è nella lava Sandy, Rage Rage, vieni dove sono io Paura, 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 paura Dannato Ci sono Redstone e Lapislazuli Prendili Prendili Eh, se avessi la mia roba Che è Guarda qua C'è il nostro amico Neme Siamo presso No, io non c'ho preso niente Ok, io dai C'è semplicemente un piccone 150 di diamanti Cosa ti serve, ecco mio Cosa ti serve C'è tutto Eh Sai che ti dico Bottiamo tutta la roba che non ci serve La tapling C'è della lava per caso Bello No, 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 no Dalla me, dalla me Dalla me No, che cavolo No Zombie Oh mio Dio È morto da Zniper E anche da Zerace Ok, adesso Spare il mio record La serie, ragazzi Il record delle infiammate Ce l'ho fatta Sono morto Ancora una volta No, no Ragazzi, ragazzi, ragazzi No, no Ho perso la redstone È il Games World Record Un record Io Più 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 Aiuto, io Aspetta Io la lava me la porta a casa Perfetto Perfetto Fortunatamente tutta la mia roba la presa da Zerace E' da Zerace Non è vero Ok, sì Vabbè, da Zerace Non è vero Sì, sì No Sì Perché hai messo quel cartello? Adesso vedrai Ah, ok, ho già capito tutto Cosa vuole fare il nostro mitico Tazer Age? Droll, morte, rip, sniper Spasticamente, spastico Ragazzi, non costringitemi a fare di nuovo best Vabbè, ragazzi Pure oggi Pure ora finisce La R-Sucidato dei morti Guarda un po' Settima parte O sesta parte Di Minecraft Bella da Nemesi Ciao a tu Da sniper che muore Da Rage Ciao Ciao